Oh, Sofia! C'è cucina? Non è che è bernita? La prima antellina è cucina, Sofia! C'è cucina che io! C'è cucina? C'è prima antellina è a Sofia con lui, prima data di oggi. C'è cucina? C'è oggi? Sper Sofia non si riuscina. Non è bene, pa! La prima antellina è così? Ma? La prima antellina è beza. C'è prima antellina è la prima antellina? C'è cuore narrofii, tro Booz orologia, fra r UMコ emerguali bla, bo cofan in angletă 제 남자だ céu Grazie a tutti 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 Buongiorno Grazie a tutti Grazie a tutti Buongiorno Buongiorno Grazie a tutti Buongiorno 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 Buongiorno